Buonasera ai telespettatori di Rete7, vediamo insieme le notizie di stasera e di domani. Intanto sino all'8 febbraio le linee 82-84 sono deviate in Moccalieri. Sino alle 19 di venerdì la linea 56 in direzione Grugliasco da via Alfieri è deviate in via Somalia, via di Vittorio. Percorso normale sino al 28 di febbraio la linea 10 è gestita con autobus sull'intero percorso. Le notizie di domani, giovedì 11 gennaio, in mattinata gara Corsa Campestra al Parco Ruffini. Divietro di transito domani in via Gioia tra Corso Vittorio e Emanuele e via San Quintino dalle 8 alle 18 per lavori edili. Nella notte prossima tra giovedì e venerdì avremo le operazioni di pulizia meccanizzata notturna con la chiusura dei sottopassi 23.30-1.30, chiusura del sottopasso Repubblica Portapalazzo dalle 2.30 alle 4.30 di venerdì mattino e la chiusura del sottopasso Lanza di Corso Massimo d'Azeglio. Non ci sono altre notizie, buona serata, buon viaggio e a domani.